Arriverà nelle fumetterie di tutta Italia il 9 gennaio, ma è già acquistabile sul sito BAO e in alcune anteprime ed eventi in giro per l'Italia, tra cui la BAO Boutique a Milano, sto parlando di Golem, di LRNZ, un nuovo fumetto tanto atteso, molto promosso da BAO e ora finalmente ci abbiamo potuto mettere le mani sopra. Di cosa parla? La storia è ambientata nel 2030 in Italia, dove il capitalismo ormai ha raggiunto estremi esagerati, tutto è un prodotto, tutto è finalizzato all'acquisto e le persone possono contare sulle comodità apportate dal progresso tecnologico. Questo futuro distopico in cui tutto sembra perfetto nasconde però un preciso piano da parte dei vertici del mondo dell'economia e della politica, che vogliono tenere sotto scacco il popolo. Un gruppo di ribelli, come in molte altre opere di questo genere, si sta organizzando segretamente per opporsi alla pacifica oppressione, così da poter informare le persone di cosa sta accadendo e per restituire loro il libero arbitrio. Il merito principale di Golem, ancora più della trama su cui si sorregge l'intera opera, è l'universo narrativo che ha creato l'autore. Un mondo vivo, con le proprie regole e una miriade di elementi che vivono e popolano questo mondo anche al di fuori delle pagine, e si scoprono un po' alla volta durante la lettura come tanti piccoli ingranaggi di un motore funzionante ormai da molto tempo, anche prima che iniziassimo a prendere il volume in mano. Non si ha infatti l'impressione di leggere una storia che inizia e si conclude in questo volume, ma un frammento, un estratto di vicende storiche di un paese, in questo caso l'Italia, il nostro paese, nel futuro. E pagina dopo pagina si possono intuire i tanti piccoli cambiamenti intercorsi in questi 15 anni e come il mondo è diventato quello rappresentato all'interno di Golem. Attraverso una storia di avventura ricca di scene d'azione, oddio, ricca, ce ne sono abbastanza ma non sono l'elemento principale della vicenda, Golem però fa anche una forte critica alla società, sfrutta il genere fantascientifico per parlare di tematiche attuali. Per certi versi mi ha ricordato film come Akira di Otomo o I figli degli uomini di Cuaron, però è evidente anche l'influenza nipponica dei manga di LRNZ, soprattutto i titoli di Naoki Urasawa e Usamo Tezuka. Graficamente invece LRNZ si concede meraviglie cromatiche e grandi illustrazioni in linea con il grande fumetto europeo, dà il meglio di sé con alcune illustrazioni pittoriche che hanno un forte impatto sull'occhio del lettore. Golem è un'opera che ha richiesto molto tempo, LRNZ ci lavora da quasi dieci anni in cui ha creato questo universo, ha pubblicato versioni preliminari su riviste, ma ora finalmente è stato raccolto da Bao in questo grande volume che dimostra le potenzialità del fumetto, riesce infatti a trasmettere attraverso una storia di un genere di intrattenimento, fantascienza action, un messaggio forte che riesce anche a dare un piccolo pugno nello stomaco. Ci sono colpi di scena ed è raccontato con un grande talento da parte dell'autore e c'è un'enorme cura per i dettagli. Tante cose che magari si intravedono solo sullo sfondo sono in realtà fondamentali, sono l'elemento più affascinante di questo universo. Infatti sparsi per le vignette ci sono tanti simbolismi particolari, il significato dei nomi dei personaggi o di alcuni fattori, alcune associazioni di questo universo. Potrebbero in realtà tutti questi elementi sfuggire al lettore più attento, ma ci sarà a breve un'applicazione, una app, che svelerà tutti i segreti di Golem. Appunto sfrutterà in un modo interessante le potenzialità delle nuove tecnologie, creando un fumetto 2.0. Aspettiamo con curiosità di vedere cosa succederà. Golem di LRNZ pubblicato da Bao Publishing. Vi abbiamo parlato di questo volume, ve lo consigliamo, perché è una storia di amicizia, di ribellione, e perché no, uno sguardo speranzoso sul futuro della società. Un gran bel fumetto.